Sono qua sul divano, che guardo un po' la tv, come si chiama? Svevas, che se ne è mola, non mi ricordo il nome. Anche a parlare con un contaventico, un prattorico, che mieti fieno, mieti qua, mieti là, vabbè sentirli, vabbè sentirli perché, insomma, il loro lavoro, a te, a questo che mi è rimasto impresso, mi è rimasto impresso questo. Noi lavoriamo una terra soltanto con i diserbanti e i concimi chimici e mi mani, abbiamo capito ragazzi come io, la fai vedere, ecco, ecco l'ho, svevas, sgrememola, cos'hai un nome, non mi ricordo, era un nome totalmente strano. e tu metti il giro con il giro ti fa tutto e con il no con il giro e con il no ti combina tutto il mio essere il mio essere essere persona ragazzi basta mi metti su le ciabatte perché vengono a fare due passi stai bene? aspetta perché dopo sono qua che aspetta provo a immaginare chi mi stava aspettando adesso il trascimento l'embriaguea siamo fuori siamo dentro siamo fuori e ora siamo l'embriago mi conosce bene eh sì bene ragazzi ho finito bisogna che dici la mia allora questa mattina sono andato a fare la spesa mi è caduta la mascherina un po' così tutti tutti ti saltano addosso la mascherina ma signora dove è? no qua sul naso e allora hai tu paura le cose non te non l'hai su tutta basta sono senza anche la barretta se beretto o cappello non so senti che becchia posso smettere ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti